buongiorno e buon inizio di settimana oggi lunedì 22 agosto 2022 gloria al signore siamo ancora qui per iniziare una nuova settimana alla gloria di dio e che vogliamo dedicare al signore interamente quindi vogliamo prestare attenzione a ciò che il signore vuole mettere nel nostro cuore vogliamo aprire il nostro cuore per ricevere la parola di dio e la benedizione che dio ha preparato per ognuno di noi e vogliamo gioire alla sua dolce presenza perché è dolce la presenza del signore amen è vero o no alleluia vogliamo ascoltare la parola di dio che questa mattina ci viene rivolta in questi termini e ora o signore che aspetto la mia speranza è in te salmo 39 il versetto 7 ed ancora anima mia trova riposo in dio solo poiché da lui proviene la mia speranza salmo 62 il versetto 5 e il titolo di questa meditazione biblica è questo l'attesa del cristiano una notevole parte del nostro tempo trascorre nell'attesa sì nell'attesa di qualcosa si potrebbe addirittura dire che l'uomo vive nell'attesa per tutta la durata della sua esistenza in fondo anche se non è sempre consapevole si incammina sin dalla nascita verso l'ineluttabile fine di questa vita la morte il poeta al cui ha scritto la vita è l'attesa della morte anche il cristiano sa che la sua vita terrestre avrà fine ma contrariamente all'incredulo possiede la vita eterna che il signore gesù gli ha donato e con questa certezza affronta serenamente la vita la morte non è la fine dell'esistenza dell'uomo perché per dio tutti vivono è stabilito che gli uomini muoiono una volta sola dopodiché viene il giudizio ma la bibbia dice anche avete la vita eterna voi che credete nel nome del figlio di dio ora forse ti starai domandando cosa sia questa vita eterna non consiste soltanto nel vivere per sempre come ha affermato gesù stesso questa è la vita eterna che conoscono te il solo vero dio e colui che tu hai mandato gesù cristo chi conosce dio mediante la fede in gesù ha la certezza di vivere per sempre ma in paradiso e di scampare al giudizio di dio per chi crede in lui la speranza di una vita vissuta eternamente con gesù rende serena e tranquilla l'attesa che lo separa dall'incontro con il proprio salvatore l'apostolo paolo diceva o il desiderio di partire e di essere con cristo perché è molto meglio addirittura usava queste parole chi è stato riscattato da cristo attende con tranquillità la fine della sua vita confidando nella speranza della vita eterna promessa prima di tutti i secoli da dio che non può mentire quindi la nostra speranza è certa è fondata su una parola vivente è fondata su una parola salda incrollabile una parola che edifica una parola che fortifica una parola che parla al cuore ecco perché noi crediamo ciecamente che saremo in cielo in paradiso con gesù perché sono parole di gesù queste chi crede in gesù cristo alla vita eterna chi crede in dio alla vita eterna quindi non è una filastrocca e neanche un utopia un qualcosa di prettamente mentale no è fede fede nella parola di dio e concludo con una domanda ma quando tu leggi la bibbia ma crede realmente a tutto ciò che vi è scritto o c'è qualcosa che forse nel tuo cuore dubita tu lo sai ma ti posso dire una cosa se c'è un dubbio quando leggi la scrittura io ti consiglio di parlare a gesù e dirgli chiaramente signori io ho un dubbio su questo punto ti prego rivelamelo parlami fammi comprendere elimina questo dubbio perché tu sei la verità parla con gesù e metti davanti a lui ogni tuo dubbio e vedrai che gesù si prenderà cura di te e anche dei tuoi dubbi questa mattina vogliamo pregare per il figlio di daniela fratello e sorella ha bisogno di liberazione io non entro nei dettagli so come stanno le cose non so come si chiama il ragazzo però te l'ho detto una volta te lo ripeto ancora un'altra volta a dio non gli importa che gli citi il nome perché lui sa chi è il figlio di daniela vogliamo pregare e chiedere a dio liberazione ti invito a chiudere gli occhi insieme a me e a pregare dio nel nome di gesù per mezzo dello spirito santo alleluia signore padre celeste noi veniamo a te perché c'è pervenuta questa richiesta e tutti insieme signore tutti insieme vogliamo accordarci nel pregarti per il figlio di daniela e ti chiediamo che nel nome di gesù cristo sia liberato signore tu lo conosci signore tu conosci il suo stato tu conosci la vita che sta conducendo nel nome di gesù una potente liberazione tu lo puoi fare raggiungi il suo cuore parla al suo cuore signore e convincilo di peccato alleluia signore lo mettiamo nelle tue mani perché abbiamo fiducia in te signore e vogliamo pregarti anche per ognuno di noi signore benedici le nostre vite e aiutaci ad andare avanti anche in questa giornata in particolar modo ti vogliamo pregare per la mamma per daniela per questa mamma signore che sicuramente il suo cuore è afflitto infranto e si vive forse quell'impotenza signore ti prego nel nome di gesù donale forza donale saggezza e riempila di spirito santo affinché possa ricevere potenza dall'alto per gestire questo momento difficile ogni grazia te la chiediamo nel nome di gesù amen amen dio ti benedica buona giornata daniela sii forte nello spirito fortificate nel signore e vedrai la gloria di dio pace a voi e buona giornata